Eccoci, siamo scesi giù nella spiaggia Bani Teresa, la spiaggia appunto dell'hotel Metropole, stiamo con la signora Ivana, te saluto, buongiorno Ivana. Buongiorno. Ecco, è finito il primo weekend d'estate, no? Ecco, avete riempito, ho sentito Pilati che mi diceva che era soddisfatto di comandare. Siamo molto contenti, è arrivata parecchia gente e sono stati tutti soddisfatti. Tutti soddisfatti, perfetto. La spiaggia è organizzata al meglio, sicurezza di 10 metri quadrati per ogni ombrellone, lettini sanificati, bagni, servizi, cabine. Il personale è preparato e ora aspettiamo che la gente... Trenoti, diciamo, e possa riempire. Trenoti. In quest'anno abbiamo anche la bandiera blu. Ecco, cosa che non è da poco perché è importante, erano parecchi anni che non c'era Diano Marina. Erano parecchi anni. Per cui invogliamo ancora maggiormente i turisti che vedono appunto questa trasmissione a venire direttamente a Diano Marina. Volevo chiedere, da dove arrivano i turisti principalmente? I nostri turisti vengono da Milano, da Torino, dal Piemonte e dalla Lombardia. Benissimo. Voi fate servizio anche con bar, ristorante qui, tavola fredda diciamo, no? Tavola fredda. E per cui chi arriva può stare tutta la giornata qui senza spostarsi. Assolutamente. Allora, vogliamo dare l'indirizzo, il numero di telefono per potervi contattare eventualmente a presentare? Volentieri. Bagni Teresa, Viale Torino 11, Diano Marina. Il numero di telefono? 339 3813 819. Perfetto. Allora, Diano Marina, bandiera blu, Bagni Teresa, Ivana, vi aspetta. Vi aspettiamo. Grazie mille. Buona giornata. Grazie mille.